Siamo qui alla presentazione dei Pad in Sassi Rai 2023-2024 con Tiberio Timperi. Allora, Tiberio, ti rivedremo in televisione con i fatti vostri nella nuova stagione. Cosa ci puoi anticipare di questa nuova... Anticipo che c'è Anna Falchi, arriva Flora Canto, c'è Maestro Palatresi e Paolo Fox. E per quanto mi riguarda, essendo figlio di un periodo in cui il citofono non c'era, era appannaggio dei ricchi e mia mamma era una portinaia del comune... Ah, io mi faccio i fatti vostri, cioè meglio di così non se lo vediamo. Ma ti vediamo anche quest'estate appunto in onda con un mattino estate. Ma cambiate canale, ma perché... Grazie, scherzi a parte, grazie. Come sta andando questa... Mi dicono che sta andando bene. Sono sincero, si vive sì di ascolti, ma a me piace vivere anche di gradimento, perché a volte l'ascolto non dice tutto matto. Per quanto mi riguarda, appartenendo alla generazione del libro cuore, io sono contento se riesco a fare il mio dovere. Poi, se va bene, bene. Se non va bene, è facile. L'importante è stare a posto con la coscienza. E finora mi sembra che stia andando molto bene. Io sto a posto con la coscienza, va bene così. Grazie mille.